Il Lions Club Bra Host, presieduto da Luigi Purcaro, ha erogato un contributo di 2.500 euro alla Fondazione Agave Onlus per la realizzazione del centro residenziale per persone con disabilità. Il contributo conclude la donazione complessiva di 10.000 euro. In visione negli uffici comunali, gli atti del piano esecutivo convenzionato per costruzioni da realizzare in Piazza Arpino. Fino al 2 febbraio, la documentazione sarà dal lunedì al venerdì, alla Segreteria Generale del Municipio. Il sabato e nei festivi, gli atti saranno consultabili alla Polizia Municipale.